La mountain bike è uno dei mezzi di trasporto più interessanti per la scoperta del nostro territorio. Sono Ettore Personetta, guida di mountain bike Valdostana e la mountain bike mi permette di far scoprire ed apprezzare le bellezze della Valle d'Aotta. Muoversi su sentieri e strade poderali, grazie anche alle bici a pedalata assistita, non è mai stato così accessibile. In queste puntate vi porto alla scoperta di luoghi, territori ma soprattutto persone e amici che come me vivono in queste straordinarie valli. Grazie a tutti. In questa puntata andremo verso Puntamet, una vetta di 2500 metri che raggiungeremo attraverso strade poderali, un giro sperimentale che necessiterà di una tappa da un nostro amico agricoltore perché non sapremo se le batterie saranno sufficienti, quindi un punto di ricarica sarà necessario. Il rifugio Scialini è chiuso quindi faremo tappa un po' più in basso. Ci porteremo in vetta e poi da qui seguiremo questa cresta aerea di livello alto, quindi non per tutti, per poi rientrare nel punto dove abbiamo lasciato il mezzo. Grazie a tutti. 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 Ciao Maxime. Ciao. poi non sono in cossiera, non sono in cossiera, non sono in cossiera, ma non sono in cossiera, ma non sono in cossiera. Penso a te che... pensate la casa eh. Grazie perché non è un po' di rispetto, se non c'è giusto le batterie, se non c'è un tour nuovo, se non c'è a testare, quindi mi hanno detto magari di più. Grazie a te che hai disponibile, dovete pensare anche alle batterie perché si è un po' bene, si arriva al fiatolo di dislivello e le bici te ne avevi passi anche di Zatè? ma guarda di Zatè sono ben passati che vanno su rifugio si, cambiasi la ponte ma vuoi bene fare la ponte anche, vediamo anche a Veneto non è bene, qui ne avevamo la bici normale nella sezione come l'hai a modo dai ecco vengo abbastanza di plod eh, la giuglietta si ottiene la giuglietta le vi viene plod e poi ci guarda un'overe della campagna e non è bello a modo perché voi anche vi ho dovuto fare la tignata ma quando noi siamo tutti noi siamo 6,90 6,90 e vi ho saputo anche di te la cosa di te secondo me la cosa, due giorni, papà, mamma, le siamo vabbè tutta la famiglia prende grazie ciao Maximo ciao 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 Grazie a tutti. Bene, abbiamo fatto i nostri mille metri di dislivello. Sì, che tutto sommato in 20 chilometri non li abbiamo neanche sentiti. Siamo a 2000 metri qua al rifugio Scialigna, non si mangia bene e poi c'è la possibilità di ricaricare le e-bike. Questo è fondamentale anche per pianificare degli itinerari in loco ad anello o diretti verso altri rifugi, altre metri. Bene, da qui in poi saliamo verso la Zad Scialigna e poi verso il Col de Met e la Punta Met. 500 metri interessanti anche da pedalare, da spingere. Fino a qui l'itinerario lo conoscevo, Punta Scialigna con la tappa del rifugio Scialigna è un itinerario che faccio spesso. Però adesso c'è l'incognita di Punta Met e soprattutto della discesa. Eh, vedremo dai. Beh, c'è la da divertirsi. Sì, assolutamente. Meno male. Via. Andiamo. Grazie a tutti. 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 In quell'occasione lì appunto poi siamo scesi, siamo rientrati a casa e beh aveva tre anni, iniziava con la sua balance bike, perché la bici secondo me non è solo discorso estremo. La bici è passione, la bici è passione, dai primi passi in avanti è bello far scoprire a piccoli passi come muoversi su due ruote. Per me la mountain bike è libertà, divertimento e trasmettere emozioni. Grazie a tutti. 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 Mamma mia. Mamma mia. la bici elettrica che ce l'hanno. non banale, non banale su queste pietre un po' taglienti, un po' piatte. Sì, anche il sentiero era un po' scavato dalla pioggia. Nesta bici come l'hai vista in discesa? Eh, diciamo che in discesa non è malleabile come la bici normale, non è così dinamica, anche qui sul salto abbiamo potuto vedere che non ho trovato la stessa facilità di giocare. Maneggevolezza. Esatto. Tu calcola? Qua siamo a 25 kg più o meno, 26 kg rispetto alla tua bici da enduro che ne pesa meno la metà. Quindi adesso sì, siamo quasi in fondo a Tura e poi da lì riprendiamo Poderale e un altro sentiero finale per tornare e chiudere il giro da nello. Bene, bene. E quindi niente, adesso qua possiamo granchire un po' le dita per, diciamo, per le frenate e la gestione dalla punta. Esatto. Qua siamo a 1.700. Sì. Mi sembra. Ho guardato prima. Sì, 25 km fatti quindi tutto sommato non è ancora finita. Non è ancora finita. Esatto. Sì. 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 Grande. Ci abbiamo fatto quasi 40 km. Sì. Ci sentono tutti. È stata dura anche con l'elettrica. Il giro di oggi sicuramente per dislivello e chilometri e altitudine era impegnativo però si possono fare delle varianti. Si può arrivare anche al rifugio Saligne e rientrare in Poderale per un giro ad anello facile e lì può essere per tutti. Punta Met, come hai detto prima, non è scontata. È da rifare con la bici normale se non l'avevi mai fatto. Sì. Con oggi ho un conto in sospeso su quella salita per arrivare al colle perché comunque diverse volte sono dovuto scendere a piedi nonostante l'assistenza e quindi assolutamente sì la rifarò con la bici normale cercando di portare, cioè di non scendere a piedi. Sicuramente poi anche in discesa hai visto il peso della bici sul ripido da gestire un po' diverso. Sì. 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 Però alla fine anche l'elettrico la boccia è troppo bello. La credi. La credi. Sì. Sì. Perché comunque fai tra le nuove. Non rende fia anche se la bici. Fa travagli, aveva la brea, aveva la zamba, anche se la sospensione ha preso anche la tua bici città, travagli un po' o meno ma comunque fa gestire la bici. Sì. 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 E le zi che dicono, ma vuoi imprendere la bici elettrica, fio la giornata. Sì. Se che fai le idee. Come sei avuto il mio giornata? Esatto. Il 20 km preveglia. Poi se si vogliono complicare le cose, noi abbiamo fatto Punta Met oggi. Sì. Si va di là a Punta Cialigne, si scende Costa Tardiva e poi si ritorna sul rifugio Cialigne. Poi da lì partono diversi trail che conosciamo, io e te bene. E oggi ad esempio abbiamo chiuso con un pezzo di un trail che arriva da lì e che poi scende fino ad Aosta. Quindi bello. Molto divertente. Sì. Grazie. Grande. Ciao. Ciao. Ciao.